il personale è triste ma ci abbiamo ottenuto abiti 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 ok l'hanno superato muovete il culo lo so guardi che c'è mi ha riconosciato l'ho riconosciato questa cosa che mi è di un inizio paolo mi ha parlato di un compagnia magari ha detto una poesia dentro e non lo sai grande Sara come tiri dai io Grazie a tutti. Grazie a tutti.